Si è chiusa l'Expo ed è stato indubitabilmente un successo, ma Beppe Grillo aveva scommesso che non ci sarebbe andato nessuno, un minimo di autocritica non la fareste? Qui ci verranno due milioni di persone, ma chi è che viene a Rò? Sul successo ci sono dati che ancora aspettiamo, tipo i bilanci, tipo la reale vendita dei biglietti. Non ci sarebbe andato nessuno, diceva Beppe Grillo. Ho chiesto a Milano, sei mai andato a Rò? Mai, mi toglierei i coglioni per andare a Rò. Ci sono andati comunque 20 milioni di persone. 22. Anche spinti, abbiamo visto andare un pochino di tutti. Guardi, non c'è un cazzo cosa guarda, c'è niente!